L'importante nel rapporto è la fiducia. E io non mi fido per niente. Secondo me mi nascondi qualcosa. Guarda, se me lo dici tu non ti lascio. T'ammazzo direttamente. Che è sto profumo? Che è sto profumo da sciacquetta? Ah, è quella busta della collega tua. Se te risaluta di nuovo col bacetto, ce l'affogo dentro quel profumo. E chi t'ha visitato, la dottoressa quella rifatta? Mi sa che prima o poi si deve rifare pure il naso. Chi t'ha scritto? Chi era? Te l'ho iscritta in palestra. O ci vengo pure io e te lo scordi. Chi è più bella tra me e la tua ex? Perché hai salutato quella del secondo piano? Vai a ballare. Ar gemelli te faccio ballà. Io non sono gelosta. Sei tu che me ne dai motivo.